. Mercato Juve, sacrificio di bala? 10 big nel mirino . Tante le questioni aperte in casa bianconera in vista del prossimo anno, riguardanti soprattutto il calciomercato della Juventus. . La società sta valutando molte situazioni calde che dovranno trovare una soluzione il prima possibile, per progettare il mercato bianconero e iniziare a muoversi concretamente senza aspettare troppo e rischiare di farsi trovare impreparati. . Uno dei temi più bollenti riguarda il futuro di Max Allegri, sul quale sono arrivate novità veramente importanti nelle ultime ore di cui parleremo più avanti, ma c'è anche da sciogliere il nodo di bala. . 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 sacrificio importante come quello della gioia. 3, Khalidou Koulibaly, altro autentico sogno di paratici. Ci si potrà arrivare solamente grazie ad una supercessione e negli ultimi tempi si è anche paventato un possibile clamoroso scambio con il Napoli, il difensore senegalese a Torino e Dybala in azzurro. 4, Rafael Varane, altro superobiettivo per la difesa, ma anche lui costa tantissimo. La Juventus continua a rimanere alla finestra. 1, Mauro Icardi, rimane in piedi l'ipotesi di scambio con Dybala. L'attaccante nerazzurro piace moltissimo a paratici. 6, Mohamed Salah, in attacco invece è l'egiziano una delle ultime super suggestioni per la vecchia signora. Per l'assalto alla stella del Liverpool ovviamente servirà la cessione di Dybala. 5, Isco, da tempo in orbita bianconera, lo spagnolo potrebbe essere il colpo sulla trequarti per far dimenticare subito la gioia. 7, Kylian Mbappé, stesso discorso per il fenomenale attaccante del PSG, autentico sogno di calciomercato soprattutto del presidente Agnelli. 8, Antoine Griezmann, altra enorme suggestione per il reparto offensivo bianconero. Anche per lui vale il discorso fatto per Salah Mbappé. 9, Roberto Firmino, altro nome spuntato di recente per l'attacco, da quando Klopp è stato accostato alla panchina bianconera. 10, Mattis De Ligt, tornando alla difesa, è lui l'obiettivo principale della dirigenza juventina. A un costo elevatissimo, potrebbe servire un grosso sacrificio. 10, Mattis De Ligt, tornando alla highsina la d'attacco. 15, Mattis De Ligt, tornando alla dall'attacco usually per l'attacco. Grazie a tutti.